ciao amici c'è un frutto dolcissimo e delizioso che è di stagione proprio ora tra luglio agosto e settembre sono i fichi gnam che buoni oltre a essere buonissimi i fichi hanno ottime proprietà per il nostro benessere scopriamole se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video proprietà nutritive i fichi sono composti in gran parte di acqua quindi idratano contengono anche grassi buoni e zuccheri tra i minerali spiccano potassio ferro fosforo calcio e sodio come vitamina il fico contiene vitamina b vitamina a e vitamina c benefici del fico mangiare uno o due fichi è un ottimo spuntino spezza fame e ricarica energia perché sono leggeri ma nutrienti e danno un boost immediato e poi sapore dolce la consistenza cremosa gratificano subito che acquolina il fico aiuta anche la digestione grazie a enzimi naturali che facilitano l'assimilazione del cibo contiene anche calcio quindi sono perfetti per avere denti sani per fare prevenzione contro l'osteoporosi e per la salute delle ossa i fichi contengono polifenoli antiossidanti che secondo gli studi aiutano a prevenire alcuni tumori e la degenerazione cellulare ricchi di fibre sono adatti per chi soffre di stitichezza tra gli usi del fico anche come rimedio naturale spicca quello per la pelle perché il loro potere anti infiammatorio è molto efficace contro acne e gonfiore ci dai anche una ricettina certo ma prima se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale è facile basta un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto ricettina veloce per gustare i fichi on the go senza perdere le loro proprietà ma senza doverli portare in un contenitore mangiarli interi la soluzione migliore è fare un bel frullato interessante io li adoro ecco alcune ricettine tropicale fichi banale e frutto della passione curcuma uva bianca pesca fichi mela lime curcuma in polvere o fresca cannella fichi uva nera mele e cannella per la pelle fichi e carote quale di questa è la vostra preferita fatemelo sapere nei commenti provate queste ricettine e scrivetemi come è andata insieme alle vostre varianti più golose mangia sano e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri ed ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao